Siamo a Fano, negli uffici comunali dove si è appena conclusa la conferenza stampa con cui Stefano Brecciaroli della cooperativa Crescere ha presentato un importante progetto che vede coinvolte diverse associazioni giovanili, cooperative, coordinato dalla cooperativa sociale Crescere di Stefano Brecciaroli. Il progetto si chiama Generazione Republic, come è nato il nome Generazione Republic e cosa si prefigge? Il progetto Generazione Republic è un progetto di cittadinanza attiva che vuole pensare al tema della sostenibilità ambientale e in generale della responsabilità diffusa tra i giovani e che è nato all'interno della consulta comunale dei giovani di Fano proprio per andare a stimolare il territorio su queste tematiche. Il progetto è un progetto che viene cofinanziato dalla Regione Marche, l'assessorata delle politiche giovanili e prevederà lo sviluppo di una serie di azioni che andranno a lavorare sul tema della sostenibilità parlando in particolar modo ai giovani. Ci saranno diverse attività che verranno proposte, quelle che abbiamo presentato oggi sono quattro bandi di concorso che vogliono parlare di riqualificazione urbana, riuso e sostenibilità. Allora i bandi di concorso fotografici riguardano il territorio del Comune di Fano e il territorio dei Comuni degli Ambiti 6 e 7 quindi tutti quelli che vanno da Fano a Fossombrone e da Mondolfo fino a Pergola sul tema della riqualificazione urbana. Chiediamo quindi a giovani dai 16 ai 35 anni, non professionisti o professionisti, di presentare sul nostro sito un fotoprogetto pensando a quali spazi pubblici urbani vorrebbero vedere riqualificati. Quindi stiamo parlando di spazi in disuso su cui è necessaria una proposta di riqualificazione. Per ognuna di queste due categorie di concorso, quindi quella di Fano e quella degli ambiti 6 e 7, ci sarà un premio di 500 euro che verrà consegnato al fotoprogetto e all'idea migliore e che in qualche modo verrà comunicato in occasione del festival che si terrà ad inizio luglio a Fano, presso i Giardini del Pincio. Oltre a questi due bandi di concorso fotografico è attivo un bando di concorso fumettistico rivolto invece a tutti i giovani disegnatori da 16 a 35 anni residenti sul territorio della Regione Marche per pensare ad una vignetta che parli appunto di sostenibilità ambientale, ambiente e riciclo. Anche per questo bando è previsto un premio di 500 euro e tutte le informazioni anche su questo bando sono reperibili sulla parte concorsi del sito re-public.it. L'ultimo è un bando, è un concorso di idee rivolto a tutti i giovani studenti delle scuole secondarie superiori dai 16 anni fino a frequentanti le scuole secondarie superiori ed è un concorso di idee su come rendere più sostenibili le attività umane. Anche questo bando di concorso è reperibile sul sito e servono questi bandi a tentare di diffondere il tema della sostenibilità e della responsabilità individuale sull'ambiente fra le giovani generazioni. Oltre a queste attività stamattina abbiamo presentato il laboratorio di cooperazione che è il primo appuntamento operativo del progetto. Il laboratorio che inizierà giovedì 21 marzo alle 17 presso i locali degli spazi giovani in corso Matteotto 66 vedrà il coinvolgimento dell'Associazione Giovani Cooperatori Marche e sarà il tentativo appunto di lavorare dal punto di vista anche delle possibilità economiche e occupazionali sul tema di riciclo e riuso e vedere come questi spunti possono essere degli input anche economici confrontandoci anche con realtà lontane da noi. Oltre a queste attività ci saranno iniziative di sensibilizzazione quindi laboratori territoriali diffusi di ripensamento appunto del territorio tramite writing, sketch crawl, gare ciclistiche sui territori dove sono ubicati questi spazi e tutto il progetto vedrà una sua conclusione nel primo weekend di luglio il 4, 5 e 6 luglio in un festival giovanile multidisciplinare che ospiterà concerti, laboratori, installazioni, performance che sarà la riedizione del festival Pincio Republic già fatto l'anno scorso. Già da quest'anno stiamo lanciando la campagna di raccolta sponsor per la prossima edizione del 2015 quindi chiunque sia interessato a sostenere l'iniziativa e a conoscerla più nel dettaglio può andare a visitare il sito www.retrattinopublic.it per trovare modi per sostenersi, per partecipare e per conoscere tutte le opportunità che dà ai giovani questo progetto. Questo è un progetto molto articolato diciamo una fucina di idee quello che avete messo e che prospettive ci sono per il futuro un'applicazione concreta dell'idea vincente e anche come ricaduta sull'aspetto lavorativo diciamo anche perché poi la collettività si aspetta anche qualcosa di concreto Dal punto di vista delle possibilità siamo in una fase embrionale chiaramente sarà interessante capire quanto l'idea di fondo del progetto ossia quella di ripensare gli spazi pubblici in disuso possa essere un motivo per creare partecipazione e attività anche al fine di riqualificare questi spazi e ripensarli con una vita nuova un po' quello che succede con i rifiuti che riciclati acquisiscono nuova vita vorremmo vedere se è possibile tentare di mettere questo germe culturale del guardare più da vicino i luoghi che in questo momento sono in disuso e pensare a una nuova vita i laboratori, i bandi servono appunto a raccogliere idee verranno premiati le migliori perché poi saranno quelle che concretamente verranno messe in atto Grazie e complimenti Grazie Amici di Onda Libera un saluto Grazie 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 Grazie